Musica Cari amici, siamo arrivati al nostro appuntamento con la catechesi, con il nostro libro di catechesi la gloria di Maria nell'annuncio dei segreti e questo libro come sapete è fatto da pensieri che riguardano il tempo che stiamo vivendo e che vogliono essere appunto una fonte di informazione e di formazione a volte il pensiero riguarda i propri messaggi della Madonna e a volte riguarda gli avvenimenti che stiamo vivendo e sui quali ovviamente riflettiamo la luce della fede. Allora il prossimo pensiero, siamo a pagina 55 e il pensiero 44, è un'espressione della Madonna che è molto importante e che cerchiamo di applicare alla nostra vita, cioè chi prega non ha paura del futuro. Cari amici, la Madonna non solo ha presente ciò che avviene nel mondo, ma conosce più di quanto lo possiamo fare noi quello che ribolle nel cuore di ogni uomo, quindi vede tutti i nostri cuori la Madonna e anche tutti i nostri pensieri. Pur nella tenerezza del suo linguaggio materno, si è rivolto parole che ben descrivono lo stato d'animo della grande maggioranza delle persone. Ci ha detto che i nostri cuori sono agitati, confusi, in preda alla paura, quando non sono scardinati dall'odio e dominati dalla cupidigia e dall'arroganza. Tutti i messaggi della Madonna, del nostro tempo questi poi. La madre si è soffermata in modo particolare sulla paura del futuro, mettendoci in guardia dall'azione del maligno a questo riguardo. La paura del futuro, infatti, può avere effetti devastanti, perché paralizza la vita, svuotandola di significato e di creatività, cioè paralizza. Inoltre, la paura può scatenare, soprattutto sul piano collettivo, reazioni irrazionali che possono portare la violenza alla guerra. La paura del futuro è un'arma che il principe di questo mondo sta coltivando abilmente per ricciugere le vostre vite e il presente su quale camminate, ha detto la Madonna nel messaggio del 25 marzo del 2020. La Gospa, cioè la Madonna, si è ricordato più volte, in particolare in questi ultimi tempi, che dobbiamo e possiamo vincere la paura del futuro con la preghiera. Pregando, infatti, usciamo dalle tenebre e dal caos della comunicazione mondana ed entriamo nella luce di Dio, che è il Signore del passato, del presente e del futuro. Il futuro, così come la Madonna lo ha rivelato nei suoi messaggi, è saldamente nelle mani di Dio, che ci ama e che ha mandato lei per salvarci dalla deriva catastrofica lungo la quale stiamo scivolando. Giustamente i vicendi dicono che la Madonna viene dal futuro che lei sta preparando. Questa prospettiva, cioè della Madonna che viene dal futuro, di un futuro che è nelle mani di Dio, questa prospettiva che noi continuiamo con la preghiera, ci rianima e ci infonde la forza di reagire e di lottare, aiutando la Madonna a realizzare il suo piano di salvezza per tutta l'umanità. Quindi questa, come dire, prospettiva, cioè noi con la Madonna costruiamo il futuro, il futuro di Dio, che farà crollare tutti i progetti e di un mondo senza Dio degli uomini. Nella preghiera la paura si dissolve, il coraggio prende sopravvento, i cuori si fortificano nella certezza che, se siamo di Maria, la vittoria è certa. Se siete miei vincerete, cari amici, ha detto la Madonna. Pensiero 45 sono dei pensieri che che si confortano e si robustiscono. La Madonna è una madre che si protegge dai pericoli. Cari amici, la Madonna è una madre che veglia sulla nostra vita e segue ogni nostro passo lungo il cammino insidioso che percorriamo quotidianamente. Purtroppo noi non ci facciamo caso e non avvertiamo la sua presenza premurosa, alla quale nulla sfugge di ciò che ci potrebbe nuocere. Se noi fossimo spiritualmente più vigili ci renderemmo conto di quante volte lei interviene per proteggerci e per difenderci a nostra insaputa. Cioè la Madonna proprio alla saletta ha detto voi non ci fate caso ai miei interventi, ai miei ammonimenti e alle grazie che vi concedo. Ma quello di scoprirle magari attraverso momenti di sosta in silenzio alla fine della giornata scoprire come la Madonna ci ha protetto e ci ha guidato e quale grazie ci ha dato è un mezzo ottimo per far sì che le grazie che ci ha dato siano poi portatrici di alte grazie. I pericoli che ci sovrastano ogni giorno nessuno li potrebbe numerare. Ce ne rendiamo conto quando irrompono inaspettatamente come fulmine a ciel sereno. Si tratta di minacce che riguardano la nostra salute, la nostra famiglia, il nostro lavoro, le persone non i care. La vita quotidiana ne è piena. non di rado si tratta di insidie ben più gravi di carattere spirituale e morale che creano sbandamenti, sofferenze e ferite difficili da curare. C'è anche il diavolo che si apposta e la serpe silenziosa che punge. È possibile far fronte a tutto questo? nessuno lo potrebbe fare perché la nostra situazione nel mondo è appesa a un filo. Noi camminiamo sulle uova, cari amici, o su serpente e scorpioni. La strada ne è piena e ci domandiamo fino a che punto potrebbero arrivare le sicurezze umane. a chi non crede non resta che contare sul caso. Ma noi che abbiamo la grazia della fede sappiamo quanto sia importante l'affidamento quotidiano alla madre perché vigili senza lasciarci un solo istante. E io chiamerei in causa anche l'angelo custode che Dio ci ha dato proprio per custodirci e illuminarci nel cammino quotidiano. Come sapete anche gli angeli sono all'ordine di Maria che è regina degli angeli e quindi li comanda. La madre previene i pericoli non di rado li segnala sempre ci protegge se noi ricorriamo a lei. Questo non significa che il tempo sia sempre sereno ma che lei è sempre presente specialmente quando infuglia la bufera. Sotto la sua materna protezione siamo al sicuro possiamo vivere una vita serena abbiamo il suo aiuto in ogni difficoltà perché ci ama e ha il potere di fare tutto ciò che vuole se abbiamo fiducia in lei. Pensate quindi quale grazia abbiamo avendo ricevuto in dono una madre come Maria. Facciamo ancora un pensiero il pensiero 46 cari amici è di carattere missionario bellissimo come state facendo voi in questi giorni che state aiutando la Madonna a diffondere la sua rado nel mondo. il pensiero è questo è una esortazione di Maria arricchiti arricchite tutti coloro che incontrate cioè invece di noi quando incontriamo una persona cerchiamo di arricchirla senza però essere invadenti. cari amici la Madonna ci invita ad arricchire tutti quelli che incontriamo affinché sentano la grazia che abbiamo ricevuto con la sua benedizione e quella di suo figlio. È una forma di apostolato straordinaria cioè magari salutare sorridere dire una buona parola basterebbe anche questo per arricchire è una forma di apostolato straordinaria che tutti possono fare con semplicità e senza trovare diffidenze o rifiuti. Come può avvenire questo miracolo in un tempo come questo nel quale la fede è vista come pregiudizio e diffidenza e i cristiani sono irrisi quando non sono perseguitati? Per comprendere dobbiamo prendere l'esempio di un bel fiore che ancora sotto la neve sboccia e attira col profumo che emana e la bellezza dei suoi colori. La Madonna più volte ha portato questo esempio per descrivere quello che dobbiamo essere e come dobbiamo testimoniare. Anche noi come un fiore invernale che si apre al sole dobbiamo ricolmarci di tutto l'amore che Dio ci dona a piene mani rendendo la nostra anima meravigliosa. cioè abitata da Dio infatti nella preghiera umile e costante Dio ci avvolge nella sua luce ci rende luminosi e trasforma le nostre parole in umiere desiderabile. Nel medesimo tempo ci ricolma del suo amore che purifica il cuore dalle asprezze e dai veleni che lo inquinano e ne fa una fonte di acqua pura e dissetante. Tutta la nostra persona viene avvolta ad una bellezza e ad una dolcezza che il mondo non conosce ma che nel suo intimo apprezza e desidera. Cioè se tu sei un fiore profumato è chiaro che anche se non parli parli con la tua bellezza spirituale con la tua bontà e col tuo sorriso col tuo saluto e con la tua grazia. L'intimità con Dio coltivata costantemente fa sì che noi siamo una sua immagine e che arricchiamo con i suoi doni tutti quelli che incontriamo. La cosa più bella è che non abbiamo bisogno di parlare più da necessario perché la gente anche quella lontana va a Dio sente la grazia di cui siamo ricolmi. Questo è l'apostolato che la madre raccomanda ai suoi figli e che è stato anche il suo quando era sulla terra. Bello questo pensiero cari amici in chiave missionaria evangelizziamo con ciò che siamo cioè abitati da Maria e dalla sua grazia e in modo tale che essendo sua immagine ovviamente gli altri possono vedere qualcosa di bello di buono e con questo cari amici terminiamo domani cominciamo una serie di pensieri particolari che riguardano l'apocalisse che è già incominciata e ho deciso che riservo la catechesi del venerdì dalle 10 alle 10 e 25 a rispondere alle vostre telefonate di carattere spirituale e questo tutti i venerdì. questo dunque è una bella notizia e sono felice di poter fare questo il libro che abbiamo letto è la gloria di Maria nell'annuncio dei segreti potete ordinare la radio Maria con l'email info.it radiomaria.org col sito radiomaria.it cliccando catalogo telefonando all'ufficio informazioni 031 610 600 scrivendoci un all's up l'all's up di radio Maria è 031 610 610 scrivendo su all's up il titolo del libro nome e cognome indirizzo numero di telefono per il corriere potete ordinarlo anche su gli store online cioè su quei negozi digitali insomma come abadson ebs mondado ce ne librerie universitarie eccetera ce ne sono decine che ve lo portano si ordina e si porta e ve lo portano a casa e anche nelle librerie cattoliche abbiamo terminato cari amici e e Grazie a tutti.